Mi chiamo Davide Giacometti, ho 18 anni, sono gregionese e sto frequentando l'ultimo anno di liceo alla scuola cantonale di Coera. L'interesse per il mio lavoro è nato dall'ambiente in cui sono cresciuto, ovvero la Valle Bregaglia, dove la castagna è il frutto simbolo. La mia ricerca si concentra sulla potenziale azione fotoprotettiva dell'estrato di castagna e sui meccanismi attraverso i quali si verifica questa possibile azione. Le domande di ricerca erano quindi i composti con attività antiossidante dell'estrato di castagna hanno un potenziale fotoprotettivo? E come agiscono questi composti nel potenziare il sistema di filtraggio ultravioletto in una protezione solare? Per rispondere a queste domande ho utilizzato un metodo in vivo basato sulla sopravvivenza di cellule di lievito sensibili ai raggi ultravioletti, irradiate con gli stessi. Ho fatto in modo che i componenti antiossidanti dell'estrato di castagna entrassero in contatto con le cellule di lievito in due modi diversi. Questa procedura mi ha permesso di determinare sia l'efficacia fotoprotettiva dei componenti dell'estrato che il meccanismo con cui questi sono il chimiaciscono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti